Di colpo lui cade in un silenzio depressivo totale e di colpo scompare, dopo quattro anni lui sal dal podcast. Una spiegazione te la deve dare, anche Stiscia Notizia l'ha dato il tapire e lui mi ha dato una spiegazione. C'è qualcosa che non va, hai detto pubblicamente che c'è una relazione fra loro due. Io non ho detto che sono gay, la mia idea è che il mio pensiero è che se uno riuscisse a fare uno scoop del genere e avesse una monetizzazione importante mi ci impegnerei, lo farei e ci riuscirei. Ma siccome sarebbero impubblicabili le fotografie, non troverebbero mercato e lo sforzo lavorativo non sarebbe parificato al guadagno economico e poi sinceramente che cazzo ne frega. Grazie a tutti.